Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it Il nostro calcio è competente, ad alto ritmo, con la straordinaria carica del... Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Supersound. E' stato uno dei protagonisti della promozione del Modena, dalla C alla B. Si chiama Paolo Azzi. E sembra strano che sia un terzino a fare la differenza per una squadra che può essere di categoria. Ma è un terzino atipico il giocatore che il Cagliari sta acquistando, che arriverà in queste ore. Perché è atipico? Perché nasce attaccante. E' uno di quei giocatori che in passato svolgeva proprio questo ruolo. Nel calcio italiano abbiamo avuto più volte esempi di questo tipo. Da Fontolan, passando per Dichiara, Dichiara del Parma, non so se molti di voi lo ricordano. Tutti i giocatori che inizialmente avevano giocato da attaccanti esterni. E poi erano stati trasformati in esterni anche i difensivi. E' il caso appunto di Paolo Azzi. Paolo Azzi che è pronto ad arrivare al Cagliari. E' rimasto un po' attaccante e un po' difensore. Come abbiamo detto è nato esterno offensivo. Ma è diventato terzino grazie a una intuizione di Attilio Tesserve. E' vicinissimo al Cagliari. Stava rompendo la concorrenza di Serenitana e Palermo. Ma sembra che abbia scelto. Classe 94. Era conteso da molti club. Anche di Serie A c'era la Serenitana addosso. Quindi una prima intuizione questa di Claudio Ranieri. Perché arriva attraverso l'indicazione del tecnico romano. Che praticamente ha visto in lui anche il calciatore possibile. Per poter giocare col 4-4-2. E' stato denominato in Lega Pro. E' questa è una cosa curiosissima. Ma il re del dribbling di tutta Lega Pro. Ha con 318 dribbling tentati. Non sono tutti riusciti. E in Serie C, nell'anno appunto della consacrazione. L'anno scorso, in 35 presenze. Ha collezionato 6 gol e 6 assist con la maglia del Modena. Quindi stiamo parlando sì di un difensore. Almeno teoricamente esterno. Ma con una bella media di giocate offensive. Quindi con un giocatore proiettato verso l'attacco. Quello che serve al Cagliari per ridestarsi in questa stagione. Per tentare di risalire in classifica. E posizionarsi magari in un ruolo più comodo. Rispetto a quello che ha occupato in tutta questa prima parte del campionato. Quindi Paolo Azzi. Memorizziamo già questo giocatore. E' nato a Baraganca in Brasile. E' nato a settembre. Il 20 di settembre del 1994. Intanto ci si avvicina la gara contro il Como di sabato. Sabato alle 15. Debutto ufficiale anche per Claudio Ranieri. Nella sua versione bis con il Cagliari. E con la possibilità immediatamente di ridestare. Oltre che sul piano dell'entusiasmo. Anche sul piano dei risultati. La squadra Sard.